Quando il match finisce, quando la rivelazione Chelsea si porta a casa la Coppa, Guardiola e i suoi ragazzi sfilano davanti al presidente UEFA, Alexander Ceferin, che offre loro le medaglie d'argento, quelle dei secondi classificati. Ed ecco che in questo momento Guardiola si dimostra diverso da tutti gli altri. Giocatori e calciatori, infatti, quando ricevono questa medaglia, di solito, se la sfilano via dal collo dopo aver superato il presidente. E così, in effetti, fanno anche due calciatori del City, Foden e Zinchenko. Guardiola però no. Quando il match finisce, quando la rivelazione Chelsea si porta a casa la Coppa, Guardiola e i suoi ragazzi sfilano davanti al presidente UEFA, Alexander Ceferin, che offre loro le medaglie d'argento, quelle dei secondi classificati. Ed ecco che in questo momento Guardiola si mostra diverso da tutti gli altri. Giocatori e calciatori, infatti, quando ricevono questa medaglia, di solito la sfilano via dal collo dopo aver superato il presidente. E così, in effetti, fanno anche due calciatori del City, Foden e Zinchenko. Guardiola e gli altri però no. Pep, infatti, quella medaglia alla bacia non è solo sportività. È gratitudine nei confronti di una disciplina che ama in maniera totalizzante. Non si sputa nel piatto in cui mangi. E Guardiola, Pep Guardiola, non oserebbe mai essere così irriverente o oltragioso nei confronti di un secondo posto.